Stiamo 1-1 nella Serie con San Vendemiano, stasera giochiamo gara 3 in casa per la prima delle due partite casalingue. La squadra di Ruckers a Vendemiano, siamo una società del Trevigiano, abbiamo fatto il girone B, il campionato, ci siamo qualificati i quarti e quindi abbiamo incrociato appunto Avellino che è arrivata quinta nel girone A. Abbiamo fatto le prime due gare a Conegliano e abbiamo fatto uno pari, siamo qua oggi e domenica per fare gara 3 e gara 4 e chiaramente speriamo di portarne a casa una delle due per tornare a Conegliano per giocare gara 5. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!